Ciao. Grazie. 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 Good morning. Chalo. il prossimo il prossimo il prossimo il prossimo il prossimo il prossimo e 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 l e e e l chlo free vibration First, free vibration means what? Without any external force. Free vibrations means without any external force. Truly free vibrations means without any external force. And what? Without any external force and without any external friction. Forced vibrations means without any external force. Resonance means natural frequency and force is the same in the resonance. Then amplitude is increased. Then amplitude is increased. What do you see? Examples of resonance. First, what is the pendulum? What is the stethoscope? In the stethoscope, there is a small pipe. Every pipe is different from the resonance of the resonance. So, keep it here. In the stomach of 200 Hz, the frequency of 200 Hz, the pipe resonates. It produces a big amplitude, a big sound. And it comes in the eye. After the stethoscope, what is the bell? The stethoscope, which is the bell? The low frequency and the diaphragm? The high frequency. Then, what is the radio? The essay ofенко-powered flashes? The video made meaning from the high frequency. Seems like there has nothing happened. Do you describe the explanation? It has nothing. Stuff gave it. Don't write based on. By the stethoscope, the example is a radio? It doesn't seem like there. Look at the explaining on the radio. Give video that you are at home. No use is too much. Until somebody uses... ok nana dada dada ager koi use kertà si qui è come il e come non 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 quindi mi attra 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 èvene che ci sono il vo ora ho ora 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 il un mmm riso non 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 vediamo qui 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 La gente no, e un'immaginante l'iceetera pawsgends. Ma non è." L'immaginante anche voi è vedere la gente le capire non le capire. Lo ha concetto vide? Cosa? L'immaginismo? Madagina. ilcora la paretola verso ilcora lo hanno l'olipo la procedura ora allora dove èığerto l'olipo l'olipo il bisogno il содержitto l'oia è il positivo il situazione l'oia c'è l'entene il ghora il porta il bosque la s podemos l'entena io quindi il questo canale è diventato in questo canale. Questo canale è diventato. Quali è diventato. Il canale è diventato. E qui c'è una radio station, questo canale è diventato. Questo canale è diventato. Questo canale rai di ogni batero. Questo canale è diventato. Il canale è diventato di più. Ci sono diventato di tutto il per il tempo. a communication chapter में है final chapter तो उधर क्या है हाँ कुछ ठीक है ठीक है तो इधर से क्या बज रहा है कोला कोला तो क्या करते है इस song को 98.3 frequency के साथ mix करते है और हवा में छोड़ते है इस song को क्या करते है 98.3 frequency के साथ mix करते है और हवा में छोड़ते है अभी जो classroom में हम लोग mic यूज करते मेरे पास make रहता है यहाँ पर make रहता है और यहाँ पर ऐसा कुछ तो रहता है वो transmitter वो भी क्या करता है वैसा है रहता है वो भी radio जैसे काम करता है quindi vediamo qui non c'è qui c'è un wired mic qui c'è pure wire con la laptop qui c'è un transmitter non c'è qui c'è un class room qui c'è un mic che è usato che è usato è un wireless qui c'è anche qui qui c'è un sound che c'è un transmitter e il transmitter e il transmitter la frequenza è 200 Hz che c'è 200 Hz che c'è un transmitter è un'unico that's it e it's sent ogro and there qui c'è unpat snozzfall quindi l'ultimo il todo la un'attro Vabbiamo là quindi la 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 è il il la il la Grazie a tutti quindi il radio che fa 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 quanto per il quattro da seconda qui si ha fatto uno della frequenza del questo qui la frequenza alaino di 90 per il quattro il quattro da connessioni di Uhura quindi questa frequenza di questa frequenza di 90 avanti si è diventato quando si ravi lavorato da 90 come vai aumenta perché la frequenza del 90 è questa frequenza della frequenza di 90 e quindi la frequenza del quattro ma anche qua un circuito certamente che l'amplitude è grande il IVB qui rimane alcalpone cheama herеZonance andre il punto del che suonere ora è un aumento molto Flame e questo avevo disturbi e questo avevo disturbi perché questo avevo fare il vårdolo vema si aún crime che viene sotto questi sono risonanzo ma i sottocchi questo risonanzo . così è il venentato e questo non è velova liberamente Ad se una riare grand'e ball'e engineers e rendite io i Breeze il suo tipo di atto di 94.3 quindi il suo tipo di risonanza si la sua sensazione e la sua sensazione ok? è stato molto capito a te tempo ricordatevi quando ci sono un attimo tre frequencii se la frequenza e la frequenza è la frequenza quindi la frequenza il suo appare il interesse. Il nostro lavoro in questo momento. Il nostro lavoro in questo modo è un testo. Il nostro lavoro in questo caso. Il nostro lavoro di sonometer, il mio lavoro all'interno, il nostro lavoro all'interno, lì boldia hai tu unco e usc'e bad applications of resonance lico next point lico e usc'e bad nico applications of resonance baqi kai jitne tumare friends e doss loge sab ko bolo lectures dekne go board time ho gaya bus heading lico radio radio bus heading lico or kuchh zyadha liqne ka jorot nahi uspe radio bus heading lico or kuchh zyadha liqne ka jorot nahi ok toh jitne bhi tumare friends e doss loge e sab ko bolo lectures dekne go abhi just apna chota chota cities me abhi just cases dhik raha hai sab jaghe pere phenomenon dhik raha hai abhi last ke 2-3 din mein latur mein cases bada hai amadpur mein cases dhik raha hai parbani mein bada hai kolapur mein bada hai ichal karanji mein bada hai madalabh jaha pe mei raha udar ke gao hai hai chota city aysa hi chote cities hai toh abhi chote cities mei cases bada raha hai toh bahar mad ghumo apna class kub chalota hai kuchh pata nahi pe aeg dam aachha pada hai kuro baki jo log lectures naihi dhek raha hai unko bhi bolo lectures dekne go chalo kya hai kya hai tumko agar laghega yeh baut parishanhi hai toh yeh aachha bhi hai dhekho kyun aachha hai yeh bhi mein bolta ho haa physical tum log miss kar raha ho may bhi miss kar raha ho woh hai difficulty hai abhi yeh idhar online meh thoda difficulty hai madalabh maza nai aata difficulty madalabh kya sab toh samajta hai samajnane mein kuch problem naih maza nai aata yitna hai problem hai aur ghar pere thoda disturbance ho sakta hai thoda disturbance ho sakta hai dho headphone laga nai ka headphone laga or kaha pere ghar wale koji nai aata hai waha pere jake beteke lectures dekho isma e aachhi baat bhi bata dao me dhekho kya good thing kya hai 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 bhoat sare students online ke saad adgeist naihi kar par hai bhoat sare students online ke saad unko adgeist ho na mushkil ho raha hai eek to koncentration naihi ho ta pura one hour koncentration bhi ho ta hai toh ghar pere padai nai ho ra tumarere liye bhi e problem hai dificulty se dar lagta hai woh students padeahi nai kareen ghe naihi kareen ghe tum log kya karo debt ke padeahi karo achche se padeahi karo difficulty to sub ko aihe sub students ko aihe laki naihi e difficulty aihe isle padeahi nai kareen ghe unka kya ho jaye ga score kam aayega tu mi piacere di difficolti è così da non pensate si paratevi merit è più piccolo tu non ti farà tu non ti farà il risultato di risultato mi sembra di next year quando ti farà perché molti persone non ci saranno non ci saranno non ci saranno anche molti non ci saranno non ci saranno online o no o no che ha non succeszio non la non so si 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 Ci sono tutti i studiatori e sono perdendo reporte dei siti e di siti di siti di siti. Si 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 è sbattendo a siti di siti di siti, non possono capire di quello che ci sono. Ci sono anche anche di siti di siti di siti, siti siti di siti, siti di siti di siti di siti di siti, siti di siti, siti di siti. Quindi si è vero che il voto più e si non si farebbe il risultato. ma tutti tutti studiati bene, Grazie a tutti. 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 Applications of Resonance. Applications of Resonance. Applications of Resonance. Applications of Resonance. First, to find out unknown frequency. Unknown frequency find out करने के लिए Resonance use होता है. जैसे के sonometer, sonometer, sonometer तो ऐसा होता है. इसके उपर एक ऐसा वायर रहता है. इदर ऐसा फोर्क लगाने का, वायर के बाजू में रखने का. फोर्क को बजाने का, वायर के बाजू में रखने का. जब Resonance होगा तब क्या होता है? यह वायर के उपर हमने पेपर का तुकड़ा रखा है. पेपर का तुकड़ा यह यह ऐसा पेपर, वी शेप का पेपर, पेपर का ऐसा स्ट्रीप निकालने का, उसको बेंड करने का. तो यह उदर रखने का. तो जब Resonance होगा, यह श्ट्रीप उड़के गिरता है, उसको Rider बोलते है, Rider उड़के गिरता है. तो जब Resonance होता है, तब क्या होता है? फोर का फ्रिक्वेंसी और वायर का फ्रिक्वेंसी सेम होता है, तो वायर का फ्रिक्वेंसी हम लोगों को पता चलता है. Rezonance è vetata, quindi se che viene da 200 Hz della 200 Hz la przymorona questa con la questa frequenza dai 50 Hz è 200 Hz. Quindi come rezonance? Dunque con la frequenza nella frequenza della frequenza la frequenza la frequenza. Con la frequenza di questo due gam去了, che risotto di una frequenza, rivolgo. Sunco allora alla frequenza è tutte la frequenza, quindi qui con有沒有 risotto? I qui Doma 200 è bene, questa considera quanto Spera da 200. Tucontrolato per advised不了 PD, allora decidono, quindi prendeEM... Second application of resonance Second radio Already explained Radio Second application Radio Third application To find out Velocity of sound Third application To find out Velocity of sound Next application What is hollow wooden box? Let's write about it Hollow wooden box Hollow wooden box Hollow wooden box Is used for musical instruments Hollow wooden box Is used for musical instruments Hollow wooden box Is used for Is used for Musical instruments Hollow wooden box Is used In musical instruments Which musical instrument Is used for To use What is hollow wooden box? Why is it Hollow wooden box? What is it? 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 è molto grande quindi a noi è è qui 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 ci sono indietro qui ci sono indietro la sua questa è una volta qui ci sono indietro se il nostro corso qui ci sono qui ci sono qui ci sono ma questo quello che viaggio è spesso da qua la tua porta ora il primo fu qui si non si è la tua zona che non è una zona non si è un ruido qui si è tra più bello poi si è un ruido quindi la tua parte l'eca di frequenza invece si è un ruido non si è un ruido perché se si è una ruidata più è Dassle bello vieni 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 tra vieni 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 So the other one is wire here and the other one is hollow wooden box. Every equipment of the wooden box has different style. According to that the sound looks different. So the hollow wooden box has many instruments. It has also a tabla. How is tabla? It's like a tabla. It's produce a sound from it. è importante come a l'apparecciato e non ci la vediamo alla stracciata tutto a stracciata e non ci stare e non ci staggia ma non èlata non ci staggia così ci staggia in cui produce un'apparecciato questo è un'apparecciato e un'apparecciato questo è un'apparecciato come si 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 to analyze musical note final part final part disadvantages of disadvantages of rules disadvantages disadvantages of resonance Disadvantages of Resonance Disadvantages of Resonance Soldiers Marching on a bridge Soldiers Marching on a bridge First Disadvantages Soldiers Marching on a bridge Soldiers 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 Parade 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 bitch cold Frequency Trues Frequency Questo è tipo di selvaggsile, questi strumenti vibrati sul fr stesso frattito e i pensi che questa è un'ultima. Quindi l'ultima anche qui è un'unico. Quindi arrivo la sua un'unica vibra quindi l'unica. dye avi b da la lude pues la rit lucca la fatta la pot o non ho vari venno su questo fatto per natural frequenza siostro quindi il è dato che natural frequenza o del bridge is equal to la frequenza il soldiers i sulle quando la natural frequenza o il bridge is equal to la frequenza o il soldier la bridge is più grande ezza. impulso la microfono e sul fibre abitura e quindi tirano e la parola e il sole dov'è hypothetical l'agga ma google per i ti ma non l'agga ma è la la l'agga la l'agga 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 la l'agga il l'agga il l'agga il si ci sono diverse con le volite non si ne vedvate in la parade si chi si stai con le volite si si stai con un piede si questa è una parte si si stai con il est la sia visto perché se si medi ayo il parade informa него quindi cosa succederebbe? se questa frequenza e questa frequenza è la frequenza, quindi la bridge è girata ok quindi scrivo, Soldiers Marching on a Bridge, scrivo la frequenza 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 of bridge if frequency of foot falls foot fall frequency of foot falls is equal to if frequency of foot falls is equal to frequency of if frequency of foot falls is equal to natural frequency of bridge if frequency of foot falls is equal to natural frequency of bridge then bridge may collapse then bridge may collapse due to resonance then bridge may collapse due to resonance if frequency of footfalls is equal to natural frequency of bridge then bridge may collapse if this is a classroom then you can see this is a video on youtube and this is some students here so the roof is on the top of the roof so the roof also has a frequency which has supports and the roof your classroom think about it think about it think about it your blue color shade think about it there is rigid support here there is a bridge there is a bridge the bridge is similar to the string if you have a string then it will also be a frequency okay so it will also be a frequency like this so you are sitting here you are sitting here you are sitting here not but imaginary if we are sitting here and sitting here and on the top of the roof this is also a natural frequency if the roof and you like clapping 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 and you sing to each other just to you sing to each other marching so all every to each other when clapping the frequency see the roof and the frequency will fall where you are where you are the back per il tuo mara clappinca frequenza e rosa natural frequenza il rosa giro giro e che vede con chanato next example li con il rosa 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 Roof may collapse if frequency of clapping is same as natural frequency of roof. Frequency of clapping is same as frequency of roof. ok ora cosa stiamo dicendo? un esempio che il ragazzo e il ragazzo si può essere così come ho visto in YouTube questo è anche il Resonance non ci sono stati questo è un esempio